Buongiorno a tutti, importantissime novità per quanto riguarda questa settimana la nostra vitina usato. Abbiamo infatti ritirato una bellissima EOS 1DX, macchina ammiraglia di Canon, adatta sia da motori che professionisti. È una macchina tenuta veramente bene, non presenta alcun segno sulla scocca e registra solo 50.000 scatti circa. Per questo il suo prezzo di vendita è di 3.500 euro con due anni di garanzia che vedremo noi senza nessun problema. Non vi resta nient'altro che guidarvi al link in descrizione per andare a vedere la macchina nel dettaglio sul nostro sito o in alternativa di aspettarvi il nostro negozio per poterla vedere. Ci vediamo al prossimo video, buona giornata da Fototolita Cesni.